Se volete interagire con le persone, migliorando sempre di più il vostro modo di parlare con loro e quindi anche di incuriosirle, interessarle, coinvolgerle, c'è un solo modo per farlo, e cioè osservare come lo facciamo. E adesso vi spiego tutto, vi leggo questa newsletter, che è la nuova che è uscita, la numero 9 della nuova stagione, e qui vi spiego come osservare il vostro modo di parlare e interagire con le persone. Ciò a cui dobbiamo tendere è arrivare alla consapevolezza e coscienza. Vi ricordo che la consapevolezza è il sapere come e che cosa fare. La coscienza, invece, consiste nell'essere consapevoli di essere consapevoli. Cioè praticamente è come se da un certo momento in poi noi ci guardassimo da fuori, mentre facciamo le cose. Non c'è nulla di magico o esoterico. Quando cominciate a fare le attività che sto per spiegarvi, grazie alla newsletter, allora comincerete a imparare a vedervi da fuori mentre parlate e interagire con le persone. Andiamo con ordine. Vi ricordo che potete iscrivervi alla newsletter, vi lascio il link diretto qua sotto. Tra l'altro ci sono altri link di approfondimento. E poi ci sono anche i link al mio sito, dove potete trovare un podcast, un blog, potete trovare anche corsi gratuiti, e potete trovare anche la mia consulenza privata personale. Cominciamo. Ripetere e basta non è intelligente. Come quei docenti naif che a scuola ci dicevano ripeti, ripeti, ripeti tante volte e vedrai che impari. Ora sappiamo chi ci ha rovinato i pomeriggi e spesso i dopocena. No, la pratica senza la debita riflessione è nulla. Peggio, sarebbe un'offesa all'intelligenza umana. Ma quelli là erano solo improvvisati addestratori di foche. Noi che sappiamo di non essere foche facciamo pratica e poi la guardiamo bene. Vediamo come. Stiamo parlando di dare feedback a noi stessi, e cioè di dare una valutazione di quello che facciamo. Qui sviluppiamo quanto avevamo già anticipato nella newsletter numero 2, e poi nel testo trovate il link. Ci focalizzeremo non sulla nostra persona, ma sulle nostre azioni. Quando qualcuno ci dirà che siamo bravi a fare questo o bravi a fare quest'altro, chiederemo le prove. Le prove sono i fatti. Nel nostro caso sono le azioni. Da quali azioni che mi hai visto fare evinci che io sarei bravo a fare questo o quello? Perché sei bravo a fare così e così, dice. No. Queste non sono azioni. Queste sono generalizzazioni. Ho bisogno di sapere le azioni che mi hai visto compiere lì in quel momento. Perché hai fatto così e così? Oh, finalmente! Ecco che mi stai davvero aiutando. Hai fatto! I primi due principi del buon feedback sono allora 1. Eliminare il verbo essere. 2. Guardare le azioni realmente compiute in un preciso momento. Il verbo essere definisce la persona, cioè ne costruisce una forma, con fini compresi, come un tatuaccio. Le azioni sono invece collocate in un preciso momento e vincono sulle odiose affermazioni del tipo fai sempre così, non fai mai colà, che sono le classiche frasi spacca affetti. Gli avverbi sempre e mai sono da abolire. I sempre e i mai sono eterni e ubiqui. Ciò significa che non hanno una loro reale posizione nel mondo, nello spazio, nel tempo, cioè non sono concreti. Questo chiedo ai miei clienti. Non guardiamo ciò che è giusto o sbagliato. Piuttosto, se ti sei posto l'obiettivo di chiedere alle persone in chiusura del tuo intervento una chiara azione. Bene, l'hai fatto? La cosiddetta CTA, chiamata all'azione, l'hai fatta? Se sì, bene. Se no, nessun problema. Fallo ora. Completa il tuo lavoro. E, ciò che non era pertinente, lo tagliamo. Semplice. La domanda utile in tal caso è lo hai fatto? Lo hai detto? Per dare feedback a noi stessi, è allora opportuno che guardiamo le singole azioni e poi le sensazioni. Mi chiederò come mi sono sentito. Mi sono sentito bene. Sì, d'accordo. Che cosa hai sentito per dire bene? Dove hai sentito il bene? nel cuore che palpitava con più o meno forza, nelle sensazioni di rilassatezza, in una piacevole agitazione, in una postura magari protesa verso chi ti ascoltava, per cui il peso del tuo corpo si sbilanciava verso di lei, in una voce decisa, dal suono chiaro e sostenuto, nello sguardo di chi ti ascoltava, nella sua richiesta di approfondimento, nel suo annuire alle tue parole chiave. Questi sono feedback concreti e sono quelli utili. Mettiamo il caso che, mentre spiegavi un certo contenuto a un cliente, tu abbia sentito la tua voce indebolirsi, le spalle incurvarsi, una salivazione insolitamente aumentata o diminuita. Non vorrei avvilirti per questo, vero? No, 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 perché sicuramente tu ti stavi dicendo qualche cosa di preciso. Che cosa? Parentesi, qui puoi ascoltare l'audio che ho inserito nel testo, l'audio dal titolo Per capire se ci convince. Insomma, che cosa ti stavi dicendo? Tu solo o tu sola puoi saperlo. Forse che tu non credevi in pieno a quel contenuto, forse che non lo avevi studiato bene oppure che, in fin dei conti, quel potenziale cliente non ti faceva sentire le farfalle nello stomaco. Forse che tu abbia capito che sì, eri anche convinto, ma poi ti sovveniva che le persone al servizio post vendita spesso non hanno dimostrato coerenza con quanto da te è promesso. Solamente tu puoi saperlo. Lo so che ci hanno inculcato la mania della bella figura, per questo puoi leggere la newsletter numero uno, c'è il link nel testo. Fin da piccini, alle scuole elementari, eccone altri che ci hanno rovinato pomeriggi, sere e persino notti. Se fai così, crei un dispiacere a mamma e papà. Perciò noi dovremmo vivere per il piacere di mamma e papà. Il guaio è che potremmo trascorrere una vita a incontrare surrogati di mamma e papà. Anche di mamma e papà non sembra essercene una sola. Leggi anche la newsletter numero 5, c'è sempre il link dentro il testo. Abbiamo diritto al piacere personale e assoluto. È questo che fonda la nostra libera espressione. Perciò è opportuno provare le presentazioni, i discorsi e gli interventi di riunione. Ma capiamoci bene sul senso di questo provare. Altrimenti rischiamo di auto-ammaestrarci come volevano fare certe maestre che non portavano la penna rossa. Spesso ci inducono a confondere le prove con le ripetizioni. Le ripetizioni consistono nel ripetere con quanta più precisione ciò che abbiamo già fissato. Le prove sono ben altro. La parola stessa dice che si stanno facendo tentativi, esperimenti, ricerche. insomma si stanno facendo prove per vedere come va. Ma anche quali nuove idee potrebbero saltare fuori. Durante le prove possono uscire nuovi concetti ma anche nuovi modi di esprimerci. Oppure possono arrivare nuove soluzioni per rendere più chiaro e coinvolgente il nostro intervento. Insomma durante le prove si progetta e durante le ripetizioni si fanno repliche del progetto. ecco chiarito che le prove sono il vero momento di espressione perché tiriamo fuori da noi i nostri contenuti per vederli meglio così da poterli presentare meglio. Questa fase ha più a che fare con la scrittura di scena e di questa opportunità parleremo nella newsletter numero 12. Durante le ripetizioni ci chiederemo se avremo rispettato quanto fissato dopo le prove e se qualche cosa andasse storto se certi passaggi ci risultassero ostici da memorizzare o da dire con la forza necessaria. Ancora una volta ecco un messaggio per noi forse non siamo del tutto convinti della bontà per noi del contenuto o della sua forma. Qui puoi trovare il messaggio audio messaggi più o meno convinti lo puoi ascoltare è nel testo. Bene tutto questo è il minimo per ragionare sulla pratica. Ci faremo domande ci porremo dubbi e lo faremo con la postura dello scienziato che vuole divertirsi. Impareremo in definitiva a dare feedback a noi stessi e qui sotto trovate il videocorso gratuito come dare feedback a noi stessi per aiutarci a parlare meglio. A presto Stefano La lettura della newsletter è terminata ecco il link al videocorso gratuito su come aiutare noi stessi perciò dare feedback a noi stessi e poi se volete entrare in consulenza con me qui sotto c'è il link per saperne di più. A presto grazie a tutti i histori Grazie a tutti